ciao ragazzi e bentornati in questo video qui è Giano e siamo qui ragazzi con un nuovo video siamo appunto qui nella serie più amata che ho amato io più registrarla sul mio canale ma anche molti di voi che la guardano so che vi piace tantissimo questa serie che ci ha portato avanti tutta l'estate sul mio canale e ovviamente l'estate sta finendo vengo dalla fine di un fantacaccia di un evento importantissimo e io colgo la palla al balzo appunto per fare questo mega mega partitone a Tiki Takatoi abbiamo due mega team 4 vs 4 con i miei amici i Fanta youtubers vi ripresento tutti quanti a 1-1 abbiamo qui Simone Fiore i due Fanta allenatori poi abbiamo il grandissimo Chris mister del Fanta poi abbiamo Fanta Virus poi ci sono io poi c'è qui il grande Lorenzo Milgo Cantarini poi abbiamo il mio amico il mio grandissimo amico Michele di Fanta Gold e poi abbiamo il grandissimo Chris a posto vi siamo tutte presentazioni andate e io direi appunto di andare direttamente con il gioco mi raccomando semplice cose mi piace per supportare questo video un commento ditemi se volete per questa serie la porto anche durante l'inverno ovviamente con una frequenza più bassa perché questa passata in secondo piano quindi magari un video al mese un video ogni due settimane fatelo sapere sotto nei commenti iscrivetevi al mio canale e ovviamente a tutti i canali dei partecipanti di questo video vi lascerò tutto quanto il loro tag sotto in descrizione passo a tutti i canali e anche sui miei social e recuperate i scorsi video e troverete qua sopra nelle schede a fine video anche la playlist di tutti gli episodi che sono stati portati sul canale del Tiki Takatoi iniziamo subito mi raccomando con i like ecco qui la schermata la vedete tutti noi inizieremo faremo faremo al meglio di tre quindi il primo la prima squadra che arriva a tre per la serie a e poi faremo con l'European League e iniziamo ovviamente la mia squadra sono io il cantarini fantagol e il la squadra è la squadra è Simone Fiore e io il fanta allenatore e Chris e io lo chiamo Chris e io lo chiamo Chris Chris il mister del Fanta e Fanta Hills iniziamo subito without still senza cambi senza cambi ok ok iniziamo dal più uno allora io qua partirei io proprio sul soft e dico un Milan Portogallo layout basta scrivere la paella quanto star si vede a questo video poi andiamo ok vai lo bianco è fare di questo vai Mario Rui Napoli Portogallo ok c'è la usola orizzontale ok guarda io so che là ci stanno dei tifosi Napoli quindi chiudo la linea verticale del Napoli e dico Ozyman Nigeria Napoli però se volete già fregati forse non esiste quel giuolatore quadrato 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 dove? uuuuuh a chi interlace! bella! io avevo pensato a quella io avevo pensato a uome! no no io pure avevo pensato a quadrato c'è una donna a giurata qui e bravi e bravi vado su Milan Milan Nigeria metto ciò quesce C'è la Noblu, Milano Inter No, C-A C-A Si scrive C-A Tolli, cancella C-A Eh, non c'è Cancella No, senza l'H C-A Più Hagan Mi fate se il microfono sta regista perché si sono mossi Non vorrei che abbiamo toccato No, sei visto Ok, tocca a noi Quindi, giusto, siamo più uno Se fai il ceniceno abbiamo vinto L'entanto dobbiamo coprire la No, no, se la sappiamo Ah, se la sappiamo Ma c'è un limite di tempo poi per Allora Io forse ce n'ho uno, però non so assicuro al 100% Che sei nigeriano Io andrei a coprire Andrei a copertura Perché non so assicuro di Napoli Inter Eh, si, per coprire la Tetola garganta Pulitano Pulitano Si Matteo, Pulitano Ok Ok Iniziamo Iniziamo noi però Vai, iniziamo noi Allora Che cos'è questo? Allora Un giocatore Poi ha vinto Scudetto E che ha vinto Coppa Italia Si Ok E con la centrale Con la centrale La centrale? Sì Occupiamo il Centro-Europio Juve, Scudetto, Voducci Così Non andiamo più in bacio Te lo chiudiamo subito per il parchetto Io direi qui No, no, la metterà sull'angolo Ah, la scudetto è sull'angolo Coppa Italia Roma è Coppa Italia Totti Perrotta 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 Francesco Tavano, eccolo Francesco Tavano, vai. Bernardeschi, Fiorentina, Coppa Italia. Ha vinto con la Juventus. Ok, Roma-Sassuolo, io ce l'ho. Quelle che le abbiamo vinto, sono le mie. Quelle fatte, però fra te si sa giocare la prima vera, non andava bene. È vero, forse non è buono. Fresca macchina. Non prevediamo. Grazie, grazie quelli. C'era pure vigna. Scudetto Roma. Cicci, porti. Scudetto Roma. Si può usare due volte. No, scudetto Roma, se no scrivete cosa si produce. Stanno nella marea. Dair, si chiamano Tommasi, Dair. Ho detto che vogliono provare a mettere 20 ma. Ti devo dire. Ma magari avesse giocato a Roma bene. Ok, noi dobbiamo dire Italian Top Division. Lo scudetto o la Fiorentina. Chiellini, si. Nooo. Chiellini ha giocato nella Fiorentina? Ha giocato nella Fiorentina. Ha giocato nella Fiorentina. Sì. Va bene, ma allora ho vinto a Roma. Chiellini, non lo vanno mai bene. Quello che ha vinto lo scudetto, ha coltato con la Fiorentina. Ah, è vero. Poi davamo metto in un giocatore che ha giocato nella Fiorentina. Ah, non mi sono scordato. Ah, non mi è scanzo il gioco. No, non mi è scanzo il gioco. No, non mi è giocato che ha giocato nella Fiorentina, stanno 1 a 0 per loro stanno 1 a 0 per loro ragazzi vado io vado io Fiorentina Lazio e Sicelò vai rigorista fare rigori dopo ieri angolo in alto a sinistra togliamoci l'angolo in basso a sinistra Milan Germania ciao così va bene studiamo scrivi H e non quelli con la T io andrei Francia Milan quella più facile Mike stiamo stiamo mettendo il punto non vorrei sbagliare sì sì più forte sì veramente allora Mike Magnana Mike Magnana Siete voi sicuramente Siete voi sicuramente saluto sì sì metto il mood al mare qua dobbiamo dire Fiorentina Germania ce la chi ce l'ho Fiorentina Germania la metto io sto pensando e mettila se ce l'hai sicuramente mettiamo pure i ghiatti sì ecco che è lunga le mani Mario Mario Gomez bravo bravo metti qua no dobbiamo murarli Fiorentina Francia no per mandi qua Fiorentina Francia verrai tu no bello bello ricordo il primo che ne vince due sì ma se si vince sembra in bar il primo che arriva a due vince se andiamo sul pareggio mettiamo qui i cambi allora tocca a noi Lazio 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 Milan Acerbi ok dobbiamo mettere Sanzatone Lazio Lazio mettiamo Bazzani C'era Mancini ragazzi c'era anche Sshow Mancini è tra tutti Mazzani è un po' come classe da biamo giù di Friancia Sampdoria io forse c'ho lome però io non mi ricordo anche se la sicura in voi èячamente non me lo ricordo proprio guarda e con il Simon quello sopra il foro di하하 Perché non provi Boga? No, no, non c'è, non c'è, regà. Con l'H per prima. Ah, con l'H? Boga. Alain Bogosian? Sì, lui. Sì. No. Vedi, qualche faccio. Allora, io vi dico, io li so a tutti. Pure Zierischi, ma Zierischi per... Zierischi. Zierischi per star sicuro. Eh, chi muove, mazzano. Lancia l'azzo, io ce l'ho io. Te, sì. Ce l'ho io ascoltato a me. Sì. 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 Bravo, bravo. Bravo. Parisi, no? Mettiamo Parisi e Empoli-Fiorentina. Come vai? Vai. Vediamo se trovano Empoli-Fiorentina. Ce l'ho io già, Empoli-Francia. Zulfkowski. Zulfkowski, sì. Zulfkowski, sì. Eh, Zulfkowski, però non mi vieni. No, Empoli-Francia è Zulfkowski. No. Esatto. Zidane. Allora, noi dobbiamo chiudere qui. Io ce l'ho. Ok, vai. Mi sento, Lorini. Sì. Eh... Eh... Prova. Ci mancava uno da uno. Quello prossimo dia diamo al nord. E' giusto, regà. E' giusto, regà. E' giusto, regà. E' giusto, regà. Bologna. No, è... Ah sì. Non esiste l'altro Bologna. Ah! Allora metti Scorupowski Bologna a Bologna. Ce la giungiamo tutti. Ce la sapete voi. Pulac. Pulac. No, che cosa vuoi fare? Fiorentina a Bologna mi coprono. Pulac. E' stato pure io. Ma ha più senso però provare a fare l'altro? Perché avete una macchina qui. No, l'ho messa a noi. L'ho messa a noi. L'ho messa a noi. Perché non siamo a come scrivere. Sennò perché l'avete detto prima? Ho vinto? No, stanno sempre 1 a 0 loro. Il primo che arriva 2. Vai, io vado. Andiamo noi. E direi... Roma-Lazio. Pedro. Pedro. Pedro, Pedro. Poi? Ragazzi. Dai che qua è facile che si vince. Questo è il primo legge. Se volete. 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 Tieno la parte. Andiamo allora. Fiorentina a Brasile. Cabral, Fiorentina a Brasile. Ragazzi. Ciao Simo. Ciao Simo. Fai buon viaggio. Ci becchiamo presto. Dai. A presto! Avevo.. Senza. No a pariame. Mario Gomez. Vai da capone. Vado a cosa ci fa. Eh, sì. Io ce l'ho. Io ce l'ho. Ma non è brasiliano. No, no, no a Brasile. Brasile lascia perdere. È impossibile trovare Brasile cremonesi. Dai. Ma a presto. Ma in prossima. Io ce l'ho eh. Appena chi ama. Come braggiamo? Più basta. io spero che non ce l'hanno allora come polizia dell'audio si minumere 3.000 così ma non è un 5.000 sono troppo buoni sono buoni vai 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 metti no ce l'ho io voglio provare forse è andato in plastico fammi provare ma strafezza ha detto di sì ma provare strafezza no la metti quello che metti tu no 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 ti ho detto fatti qua scrivi ha detto strafezza scrivi Gabriel cioè ma è vero che questo viena ah ecco io è vero che questo viena alberato Gabriel è strafezza la mamma mia è musica noo hanno vinto loro no io mi sveglia tutte le sei io mi sto prendendo poimailo giochetto vado io vai tu ti svegli alle sei ci fa alzare ce ne scappiamo esatto allora vado io ti dico atletico madrid real madrid morata vai tocca a voi tocca a voi questa è tosta eh dopo tocca a noi allora real madrid match sr stiamo poi via giri al madrid paris and germany cup america che ha vinto la coppa america neymar no animale non ha vinto la pomeriggia che cazzo è la barbona 1 a 0 per Puglielmo hanno vinto loro ma io ce lo faccio tutte le puntate ma tu lo perderemo tutti grazie a Cio c'è c'è ah la pitta è qua abbiamo fatto? ce l'ho io qua ce l'ho io qua uno pari ragazzi va bene ragazzi anche questo video è giunto al termine le altre persone ci hanno abbandonato però è rimasto uno della squadra avversaria vi lascio tutti i canali sotto in descrizione tutti i partecipanti grazie mille a tutti mi raccomando iscrivetevi al canale mio e ai canali di tutti i partecipanti che trovi sotto in descrizione ringrazio Michele per aver fatto l'evento nel quale ho appunto anche registrato questo video grazie mille a tutti iscrivetevi lasciate un piacere da Giardino a tutti e noi come al suo oggi nel prossimo video mi raccomando io voglio fare un'altra in futuro quando ci rivediamo la prossima volta ci ringraziamo un altro video insieme a loro bella ragazzi ciao ciao